L'ITS Meccanica di Lanciano sta per diplomare 23 giovani supertecnici, oltre la metà dei quali ha già ricevuto un contratto o una proposta di lavoro. In sei anni sono 120 i diplomati, con percentuale di seguente impiego del 90%. La formazione proposta dall'istituto riesce a colmare una parte del sempre più crescente fabbisogno di figure tecniche richieste dalle grandi aziende dell'automotive. E allora l'ITS di Lanciano raddoppia e dal prossimo mese di ottobre partiranno due nuovi corsi professionalizzanti per formare tecnici superiori per l'automotive e i sistemi meccatronici Industria 4.0. Entrambi i corsi saranno gratuiti e suddivisi in quattro semestri, articolati in mille ore in aula con attività laboratoriali e 800 ore di cosiddetto project work in azienda, con la possibilità dunque di entrare a contatto con il mondo del lavoro, dell'impresa e stabilire anche una corsia per un eventuale futuro impiego. Nella domanda di iscrizione il corsista potrà anche indicare la presenza dell'azienda in cui svolgere il tirocinio. Sevel, Honda, Denso, Tiberina Sangro, City Group, Taiko ed altre ancora che collaborano con la fondazione ITS o che comunque aderiscono al polo di innovazione automotive. innovazioneautomotive.eu Un bilancio assolutamente positivo che vede il sistema ITS ancora una volta una risposta concreta per la ripresa dell'Abruzzo perché la ripresa dell'Abruzzo passa attraverso la formazione e quindi anche il lavoro dei giovani. L'ITS meccatronica è nella classifica dell'Indire, quindi del MIUR, al tredicesimo posto su 113 ITS in Italia perché riesce a dare risposte concrete lavorative. Il 90% dei ragazzi che escono dal corso gratuito di due anni trovano immediatamente lavoro. Una parte all'interno delle aziende dove fanno lo stage, una parte trova lavoro nelle imprese che comunque hanno a che fare con l'automotive, la meccanica e la meccatronica. Hanno partecipato all'ultimo corso 23 ragazzi. Il corso finirà fra una settimana ma la metà dei ragazzi ha già un contratto in tasca. Quindi devo dire che sono non solo molto contenta ma veramente soddisfatta.